E' facile, dobbiamo cercare di usare senso di responsabilità se il disegno è quello, sulle cose avendo da parte nostra un po' più di toleranza e di pazienza quando si parla di cose mediamente rilevanti, perché in politica il governo è tutto rilevante, avendone meno quando si tratta di cose particolarmente rilevanti. Lo dico in riferimento al MES di queste ore in cui ci giochiamo la credibilità del Paese, ci giochiamo, come abbiamo visto in questi giorni, l'andamento dello spread, ci giochiamo la nostra credibilità sui mercati, non si può giocare su questo, non si può giocare col fuoco. Allora prendo per buone le parole che ha detto Di Maio stamattina, smentendo alcune ricostruzioni, ha detto spirito, con spirito, costruttivo e leale, cerchiamo collaborazione con le altre forze della maggioranza. Bene, prendiamo per buone queste parole e da qui a lunedì capiremo se alle buone intenzioni seguiranno fatti e comportamenti, perché ci sono anche i comportamenti in politica.